Adesso suoniamo un po' molto classico, chiunque conosce, per cosa ha dei mitos, chiunque può ricordarsi di questa canzone? Direi che mamme, nonne, anzi, sono cresciute ascoltando questa canzone e è impossibile che non la riconoscerete, si è accolata, si è accolata. Ma mi dicono dall'allergia che non gli dobbiamo dare da mangiare a Filippo. Che peste. Mi stai volendo carniciurando, ma non so, non so. L'amico che nello, non so, non so, non so, non so. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.